Stop definitivo da parte dell'amministrazione comunale al maxiprogetto proposto dalla Straferro per la realizzazione del nuovo teatro teramano. I termini indicati per presentare la documentazione mancante da parte della ditta che avrebbe dovuto realizzare il project milionario sono infatti scaduti. L'amministrazione comunale di Teramo passa ora al piano B per dare a Teramo il nuovo teatro. Le location per il nuovo teatro bisognerà valutarle. Noi sappiamo che esiste già una sorta di progetto sul recupero del teatro comunale, come esiste una proposta su Piazza Verdi, quindi ex c'è l'attuale mercato coperto. Io non escluderei da un punto di vista tecnico anche una valutazione, quindi che bisognerà portare in seno la maggioranza e poi alla cittadinanza, anche l'area del vecchio stadio, dell'attuale stadio. Questo perché avremo sul piatto della bilancio tre soluzioni, cioè due di recupero, chiaramente costretti dalla perimetrazione esistente e quindi con una capienza particolare e con un utilizzo diverso da quello che può essere uno polifunzionale. Polifunzionale che potremo in qualche modo pensare sull'area del vecchio stadio. È un'idea e da valutare. Quindi io adesso cercherò in breve tempo di mettere sul piatto della bilancia più di una soluzione e poi verrà valutata in base ai fondi disponibili e in fase alle caratteristiche che la città vorrà in qualche modo avere.